Non sono passati i due anni, siamo fermi a quel giorno, per tutti noi siamo fermi a quel giorno, però in questi due anni abbiamo lavorato, abbiamo lavorato duro per ottenere parte della verità, perché ne manca molta di verità, lo sappiamo. Abbiamo lavorato per quello stato che mancava, quello stato buono che ci mancava, era un silenzio assordante per noi, non è possibile che non comunichiamo con loro. Noi abbiamo voluto, abbiamo chiesto un incontro, abbiamo incontrato Mattarella, abbiamo incontrato l'allora Premier Gentiloni, tante lacrime, tante vacche sulla spalla e ci hanno detto ci faremo sentire presto. Purtroppo questo non è accaduto, hanno cambiato il governo, insistentemente abbiamo lavorato per un incontro, così è stato, perché si devono rendere conto che una parte di Stato ha sbagliato e non può portare appresso quella parte di Stato giusta, che lavora tutti i giorni onestamente. Che cosa avete visto invece nelle parole e negli occhi di Di Maio e Salvini allora? Beh, tanta comprensione, chiaro, erano un po' spaisati, perché la vista della valanga, il segno della valanga fa male vederla dal vivo, non è facile capire chi non è venuto qua a vederla. Loro l'hanno vista, mi sembravano attenti e commossi, delle azioni che stanno facendo, noi vogliamo la verità, per arrivare alla verità qualunque mezzo è utile, per arrivare alla verità. La volontà di aver voluto creare un comitato due anni fa adesso sta comunque dando i suoi tutti, perché in mezzo a voi ci sono tante persone che cercano giustizia e stanno battagliando fianco a fianco per dare notizie che saranno sicuramente importantissime per andare avanti delle indagini. Beh, sì, certo, l'Unione, abbiamo formato un comitato, l'abbiamo regolarizzato, ma in realtà è un gruppo di famiglie che soffre, è il modo migliore. Io mi sono preso questo impegno, non sono un uomo di comunicazione, si capisce bene, mi sono preso questo impegno e ho detto dovrò condurre queste persone il più sereno possibile, specialmente le mamme e i papà, alla prima udienza. Questo è il mio obiettivo, cercare di fare i più sereni. Poi la rabbia c'è, però stiamo cercando di parlare con l'amore, rivolgendoci a tutti quanti. Però questo non basta, noi vogliamo la verità. solo con la verità arriviamo alla giustizia e che dire, sta emergendo la verità, quello che chiediamo, noi ci manca un pezzo di verità ed è notizia di pochi giorni fa che ci siamo riusciti in parte, ci siamo riusciti, questo è importante dirlo, e manca l'altro pezzo che ci riusciremo. Quindi l'appello che noi vogliamo fare a tutti coloro che sanno qualcosa, ma non direttamente coinvolti, lo comunicano, ma anche un piccolo dettaglio è fondamentale. Noi cerchiamo la verità dal 15 gennaio fino al 19 gennaio.